Musica Lettura del Vangelo secondo Marco Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio Come sta scritto nel profeta Esaia Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero Egli preparerà la tua via Voce di uno che grida nel deserto Preparate la via del Signore Raddezzate i suoi sentieri Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto E proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea E tutti gli abitanti di Gerusalemme E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano Confessando i loro peccati Giovanni era vestito di peli di cammello Con una cintura di pelle attorno ai fianchi E mangiava cavallette e miele selvatico E proclamava Viene dopo di me colui che è più forte di me Io non sono degno di chinarmi Per slegare i lacci dei suoi sandali Io vi ho battezzato con acqua Ma egli vi battezzerà in Spirito Santo Pace bene e ben trovati amici In questa seconda domenica Di avvento secondo il rito ambrosiano Ci troviamo nel Vangelo di oggi Ci troviamo proprio all'inizio Della descrizione del racconto che Marco fa Circa gli eventi che sono fondamenti della nostra salvezza Dell'inizio della salvezza che si è realizzata in Gesù Cristo Subito nel primo versetto Che non occupa lo spazio nemmeno di una riga L'Evangelista si esprime così Inizio del Vangelo di Gesù Virgola Cristo Virgola Figlio di Dio E' importante sottolineare anche la punteggiatura La buona notizia Il Vangelo che è una buona notizia Si identifica con un personaggio Con una persona ben precisa Che è il Gesù Il Gesù di Nazareth Il quale è Messia E figlio di Dio Subito Marco denuncia e emette la sua professione di fede E poi in tutto il racconto che seguirà L'Evangelista non farà nient'altro che esplicitare Questa sua credenza, questa sua fede E al termine dell'esistenza storica di Gesù Quando è inchiodato in croce Troviamo sulla bocca del centurione Una espressione che è collegata direttamente a questo primo versetto Questo soldato dice Veramente costui Era il figlio di Dio E qui sta la nostra fede Poi viene presentata la figura del Battista Allora, ai tempi in cui Marco stendeva il suo Vangelo La comunità cristiana si trovava in difficoltà Perseguitata all'esterno E presa da dubbi, da perplessità all'interno Circa la sua fede Qualcuno diceva Tra Gesù e il Battista Non c'è nessuna differenza Sono dei profeti Ecco, allora che cosa fa l'Evangelista? Presenta Giovanni Battista E gli fa pronunciare una parola Nella quale tutto risulta chiaro Risulta evidente La differenza, l'abisso Tra il precursore e Gesù Cristo Verrà uno dopo di me Che è più grande di me E io non sono neppure degno Di sciogliere i legacci dei suoi sandali Cioè di fare Di emettere un gesto Tipico del discepolo nei confronti del Maestro Io non sono più Non sono nemmeno degno Di essere ritenuto discepolo Perché lui è più grande Io vi battezzo con acqua Lui vi battezzerà con Spirito Santo E poi dentro questo brano del Vangelo Per la verità anche nei versetti successivi Troviamo degli addentellati Con le figure Alcune figure del Vecchio Testamento Ad esempio Isaia, Malachia Anche lo stesso profeta Elia Troviamo il Battista che è vestito di peli di cammello E nell'Antico Testamento Il profeta Elia veniva descritto come un uomo peloso Ci sono tutti questi agganci Per cui riteniamo fondata La riflessione, la considerazione Che fanno i commentatori del Vangelo di Gesù Del Vangelo di Marco Proprio nei suoi inizi I quali dicono Marco voleva agganciare Far vedere, mostrare Ai suoi contemporanei Per i quali scrive il Vangelo Che la loro fede è fondata nella storia Che l'inizio si è realizzato in questo modo E cita il Battista Ma ancora prima del Battista C'è una storia nel passato C'è questa attesa del popolo Di un Messia E già nelle parole dei profeti Troviamo alcune espressioni Che possiamo riferire All'inizio della nostra storia Quando noi siamo stati costituiti Come popolo, nuovo popolo di Dio Come chiesa, come comunità cristiana Ecco, questa è l'intenzione Che possiamo leggere Dentro questi primi versetti Del Vangelo di Marco L'Evangelista vuole appunto Far vedere, evidenziare E ricordare Ai suoi contemporanei cristiani I suoi fratelli Che le cose sono iniziate così E non dobbiamo dimenticare Che sono iniziate così Ecco, allora che cosa dobbiamo fare noi? Noi e i contemporanei di Marco Ricordare, fare memoria Del nostro inizio Siamo all'inizio Del cammino di avvento Che ci preparerà A celebrare il Natale L'evento, il mistero Della nostra salvezza Come dobbiamo predisporci A camminare Per vivere bene questo Natale Ricordando la nostra storia Ricordando gli inizi Il Natale è l'inizio della salvezza La Pasqua è il compimento Facciamo memoria Del nostro passato Di quando abbiamo Cominciato a camminare nella fede Proviamo a ricordare i nomi Delle persone Che ci sono state accanto Nella nostra vita All'inizio della nostra vita Ricordando il passato Possiamo leggere Una presenza Una provvidenza di Dio In questa nostra storia E questa provvidenza Avrà un significato Per l'adesso Per la storia di adesso Per il presente Ricordando Le grazie del passato Abbiamo speranza Di poter continuare A camminare nella fede Adesso Fino al prossimo Natale Fino alla fine Della nostra vita Pace bene amici A risentirci Alla prossima domenica Alla prossima domenica Alla prossima domenica Alla prossima domenica A risentirci